Oggi a Varese ha pochissime ore dalla conclusione della campagna elettorale per parlare di scuola e lavoro. Scuola e lavoro sono punti fondamentali per far crescere la nostra regione che non cresce da dieci anni. Abbiamo bisogno di uno sviluppo, uno sviluppo sostenibile, abbiamo bisogno di sostenere le imprese perché abbiano accesso al credito, abbiamo bisogno di sostenere tutte le fragilità, tutte le nuove povertà. Senza sviluppo non si riesce a sostenere così come si deve tutte le nuove povertà e tutte le fragilità che ancora nella nostra Lombardia sono tante. Un ultimissimo appello al voto. Io lavoro da quando ho vent'anni. So cosa significa lavorare, so cosa significano i sacrifici, le difficoltà del lavoro. Io mi rivolgo a tutti coloro che sono come me delusi da una cattiva politica, una politica schiacciata sulla sinistra, schiacciata sulla destra. Una politica che non ha dato risposte di merito, non ha dato risposte ai tanti bisogni che ci sono nella nostra regione. I problemi dei pendolari, i problemi delle case aler che sono sfitte, davvero troppi problemi, tanti ragazzi che non studiano e non lavorano. Io credo che sia giunto il momento di avere non solo politici alla guida della regione, ma avere competenze di chi conosce il lavoro, ha lavorato, ha le competenze, ha dimostrato di saper risolvere situazioni critiche. e credo che quindi sia giunto il momento di avere chi sa gestire, non solo chi fa politica.